Silenzio! Quando uno ha mal di testa, ha un solo desiderio, che gli passi in un momento. Qualcuno ha un moment? Sì, io! Contro mal di testa e nevralgie, moment! E rapidamente ti passa dai laboratori farmaceutici Angelini. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Leggere attentamente le avvertenze. Grazie!